Col 3-5-2 l'Olimpia agnonese sbanca Monte Giorgio e accorcia sui play-off l'idea di cambiare modulo. Nasce durante la rifinitura di sabato mattina. È la prima volta che giochiamo 3-5-2, perché noi abbiamo sempre giocato 4-3-3. Con delle assenze abbiamo modificato un po'. Non avendo nemmeno tempo, sabato mattina abbiamo preparato la partita con delle uscite con 3-5-2, andando con i nostri quinti a prenderli alti per non farli giocare. Perché sappiamo che loro con Miccioli è bravo a far girare la squadra. Quindi li abbiamo attaccati alti, abbiamo chiuso le fonti di gioco. Loro erano costretti a buttare palla lunga, quindi bravi ai ragazzi. Scelta che si è rivelata vincente. Un agnonese rabberciata, priva di tre difensori centrali titolari, Allegra, Frabotta e Ciampi e Senza Acosta, centravanti titolare, ha conquistato i tre punti del 2020, giocando un ottimo calcio. A dimostrazione che la rosa profonda funziona ed è di qualità. Un'iniezione di fiducia per società e squadra che vogliono archiviare il prima possibile il discorso salvezza per poi puntare con decisione a qualcosa di più importante, ma senza l'assillo di dover centrare i play-off a tutti i costi.